Madonna di Loreto e Fontana Grande Madonna di Loreto Non posso sgagliare su, ci sono degli altri. Situazione che ha visto ancora la freddezza di Pierluigi e di Nicola, il coraggio, la forza di questo rascino e il bucciere che ha aspettato. Via! I prima di non scuovere è un po' più giusto. ... che sta cercando di avvicinarsi ai primi... ... che sta cercando di avvicinarsi ai primi...